come ti chiami? Jonathan paura Jonathan non ti preoccupare fossi in te scapperei subito non andrei a prendere le armi quello che farai te? si ok 5 4 3 2 2 1 vai scappa 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 vai 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 non guardare dentro vai vai Jonathan piedi GIONATE! GIONATE! Scusa! Ehi, la nostra borsa! Ehi!